Tutti vogliono ottenere gli obiettivi e nella vita, e spesso si esforciamo duramente per raggiungerli e la vita diventa una lotta continua. Questo atteggiamento ovviamente non sempre produce i risultati che vogliamo. Nella mente ha una squadra meravigliosa che può aiutare a farlo senza molto sforzo esterno. La tua mente può fare gran parte del lavoro per voi se adeguatamente formati. Spesso non raggiungere gli obiettivi perché la nostra mente lavora contro di noi. Sul soldi questo è ancora più evidente come la programmazione mentale della maggior parte delle persone è totalmente contraria alla prosperità e abbondanza finanziaria. Si può lavorare molto duro e mai diventare ricco. Infatti, è quello che succede alla maggior parte delle persone. Vi mostrerò un semplice esercizio per attirare il denaro. Si può praticare ogni sera prima di andare a dormire. È molto importante che si fanno almeno una ventina di giorni. Durante questo periodo diventa un'abitudine e poi la tua mente funzionerà automaticamente 24 ore al giorno per contribuire a soddisfare i loro desideri. In questo modo concentrato e persistente, la vostra mente sarà un magnete potente in grado di attrarre la ricchezza che si desidera. Perché allora si avrà una maggiore chiarezza mentale, aumenterà la vostra creatività, la percezione e renderanno le persone e le circostanze saranno i vostri migliori alleati. Durante tutto questo periodo, realizzando questi eserciziosi di forma corretta, ti convertirà in un iman che attraerà tutta la ricchezza che deseas. Questo esercizio aumenterà anche la possibilità di attirare il denaro con la mente. Questo potente esercizio da fare tutte le sere quando si trova tranquillamente nel suo letto. RELAX Se si agisce con nervosismo, paura o preoccupazione è come piantare un campo di cultura e allo stesso tempo distruggere i semi. Lo stress è il nemico più grande che può essere attivo nel tuo subconscio perché si costruisce tutte le barriere a loro succesi. Esercizio 1 Sdraiati sul letto con sfondo morbido per aiutare a entrare in uno stato di calma è possibile utilizzare la musica di meditazione o il rilassamento. Concentrati sulla musica e stare fermi per un periodo di circa 5 minuti. rilassare i muscoli mantenere il corpo privo di tensioni respirare profondamente con calma mentre vi rilassate. 2 Visualizzare ciò che si vuole Ora le immagini mentali stanno creando la vostra realtà futura è come avere lavorare in automatico un esercito di soldati che fanno il lavoro per voi. Per tanto è molto importante per assicurarsi di fare il lavoro che desiderate che facendo la lavoro per te. Il imaginar e visualizzare continuamente lo che deseas manifestare in tua vita supone essere alineato con tus deseos per che tua parte consciente e inconsciente vanno in la misma direzione. Del mismo modo che in tua vita ordinaria con un amico quanto più tempo passa, più si affianza la relazione di confianza con lui immaginando i loro desideri diventano realtà e così non parlano mentalmente la stessa lingua e che va nella stessa direzione. proprio come si crea con un amico rapporto di fiducia nel corso del tempo anche le loro immagini mentali positive saranno meglio in nessun tempo. esercito 2 una volta che siete in un stato di rilassamento visualizzare vincendo il denaro che si desidera dentro della casa dei tuoi sogni devi essere in grado di immaginare le situazioni che si desidera vivere non importa quale ma deve essere fatto con intensità emotiva massima possibile ad esempio è possibile visualizzare l'interno della casa dei vostri sogni leggere il estratto dal proprio conto bancario con l'importo che si desidera viaggiare i tuoi luoghi preferiti o aiutare gli altri con i loro soldi si decide che il filo mentale non si sono limite tranne se stesso non è necessario che si ci concentra sui processi con cui si pensa si otterrà quella esperienza se si esegue questa operazione si soddisfare la vostra parte racionale e ciò che qui è quello di attivare la parte emozionale è più facile da venire alla vostra esperienza pertanto è essenziale che si sente godendo quello che si vuole raggiungere in questo momento nella misura in cui i dettagli sono incorporati alle immagini e si sentono immersi in esse più il vostro campo energetico e impregnato è più facile da venire alla vostra esperienza godere e divertisi con il proprio script sentirsi come un bambino che è in grado di immaginare tutto quello che volete non giudicare o analizzare ma ritiene che sia vero in questo momento mantenere con grande emozione queste immagini nella vostra mente per almeno 10 minuti forse i primi giorni sarà difficile rimanere pienamente concentrati su questa meditazione creativa perché la mente tende a vagare ma quando hai praticato abbastanza sarà naturale come respirare e quando arriverà quel momento si troveranno così facile per creare la vita che vuoi non ci ferma ci salvare la vita che vuole non ci ferma poi non ci ferma e non ci ferma che avvarci non ci ferma e non ci ferme e non ci fermate ma quando hai